Ciao a tutti amici di Alessandro, si avete capito bene, oggi siamo in compagnia di TP-Link Archer D7 per un breve unboxing, intenderò provarlo per circa un due mesetti per vedere le fantastiche funzionalità di questo modem router che è veramente ben ben fatto. Tecnologia che ormai sta spopolando nei migliori brand di networking, la tecnologia 1750, quindi un wifi molto potente, ovviamente dual band, i pv6 già a bordo e un fantastico splitter tripolare anch'esso già a bordo e già all'interno appunto della confezione, non vi preoccupate se avete per gli impianti più nuovi delle prese con il plug c'è anche lo splitter quello con i plug. Tante tante funzionalità, doppia usb e come potete vedere anche appunto il dual band e tre antenne staccabili. Ok, andiamo a vedere più dall'interno questo fantastico prodotto ovviamente a DSL 2+, appunto modem router. Lasciando un attimo da parte la scatola che ricopre questo fantastico TP-Link, abbiamo un fantastico CD per un'installazione guidata e facile, facile guidata direi che è meglio dire così, un fantastico manualettino per un'installazione veloce appunto su come configurare, adesso ve lo faccio vedere in maniera migliore perché non riesco ad aprirlo. Ecco qua, vedete, vi dice come collegare appunto il prodotto TP-Link in questione, vi dice anche come inserire il CD, addirittura vi dice praticamente tra un po' anche come accendere il computer, quindi veramente, veramente facile, varia manualistica, varie certificazioni, varia manualistica appunto in diverse lingue come potete vedere, quindi anche per i più, anche per gli stranieri abbiamo diverse lingue, abbiamo il polacco, il norvegese, il danese, il turco, lo spagnolo, il greco, il portoghese, il francese e il portoghese e altre lingue. Qui delle varie regole per la garanzia, che ricordo per i prodotti TP-Link essere di tre anni, quindi due anni dal rivenditore e il terzo anno dal produttore, quindi da TP-Link. Eccolo qua il nostro modem, lo lasciamo un attimo da parte, la dotazione è molto molto ben fornita, abbiamo ecco come vi dicevo il secondo splitter, quello con il plug e i due cavettini che servono appunto per poterlo collegare alla presa di casa vostra, un cavo patch classico, cavo UTP come potete vedere ben fatto e di appunto di buona fattura. Benissimo, lo splitter che vi avevo accennato prima appunto quello tripolare, qui ci mettete il modem, qui ci mettete il telefono e queste tre prese, questi tre spinottini nella presa di casa. Per impianti più nuovi utilizziamo questo. Le tre antenne distaccabili, ricordo che queste antenne sono antenne dual band, quindi 2,4 GHz e 5 GHz, andiamo a vederle un attimino più da vicino. Logo TP-Link come potete vedere, si orientano, quindi possono orientarsi, girano e hanno il connettore SMA. Benissimo, sono tre antenne, veramente di ottima fattura e questo è l'alimentatore da parete ovviamente con spina italiana che emette una potenza di 2,2, può essere collegata da pareti che richiedono fino a 2,5 A. Benissimo, ora andiamo un attimino a vedere il nostro prodotto TP-Link. Eccolo qua in tutto il suo splendore, abbiamo appunto 3 attacchi SMA come potete vedere sono questi. E abbiamo anche 4 porte Ethernet, una addirittura LAN-WAN, quindi potete farlo fungere anche da vero e proprio router, quindi non far fungere un modem router TASWITCH. Abbiamo appunto il tasto ON-OFF che sembrerà una banalità ma in alcuni prodotti non è presente, non stiamo parlando ovviamente di TP-Link ma di altri brand. Il connettore dove inserire il doppino 2 porte USB dove possiamo collegare stampanti perché se non stampanti di rete potete collegarle solo in USB, altrimenti se sono di rete andate sulle porte Ethernet e anche hard disk per la condivisione di file multimediali. Un comodo tasto di VPS per collegare con Push & Connect, quindi premo di qui il prodotto si prepara per il collegamento in VPS e andiamo dall'altra parte dove attaccheremo appunto il prodotto che anche lui si può collegare in VPS. Quindi Push & Connect, schiaccio di qui, schiaccio di là, il prodotto si accoppia. Nel caso in cui nell'altro prodotto non abbiate il tasto di VPS sotto al prodotto c'è un PIN che adesso ve lo faccio vedere, benissimo non c'è il PIN, ah no eccolo qua, PIN, vedete l'ultimo rigo? Qui, non so se, vabbè comunque qui sotto c'è un PIN scritto wireless password PIN e quello è da inserire quando voi schiacciate qua il tasto di VPS andate all'altra parte al posto che si le la passo inserite quel PIN, ma se non schiacciate qua il tasto di VPS non inserite il PIN dall'altra parte perché il prodotto non vi si connette. Wi-Fi on off, quindi per spegnere, schiacciate una volta il Wi-Fi si spegne, schiacciate un'altra volta il Wi-Fi si accende in maniera molto pratica e un forellino per il reset. Il modem si presenta veramente, veramente bello, è un design accattivante e veramente ben fatto, anche qui come potete vedere il logo TP-Link in rilievo, abbastanza curvo, come potete vedere quindi non è liscio e sopra non è satinato, è praticamente liscio sopra, ok? Adesso c'è una pellicola protettiva ma non vi preoccupate, aspettate che non riesce a mettere a fuoco. Benissimo, quindi per questo primo unboxing direi che è tutto, guardate com'è bello, è veramente, veramente bello. Brava, 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 brava mamma TP-Link, anche qui dei piccoli fori per far defluire in maniera perfetta l'aria e sotto è forato in modo tale da avere un'ottima areazione del prodotto perché come tutti sappiamo i modem scaldano parecchio, quindi come potete vedere è veramente, veramente ben fatto. C'è questa, questa, non so come chiamarla, oggetto centrale che come se tagliasse il modem, è proprio inserito dentro, è un inserto e il modem resta praticamente stabilissimo, non balla per niente, però ecco, vi dà appunto un senso di bellezza, è proprio bello. Grazie a tutti, tendo a testarlo per circa un mesetto e mezzo, adesso vediamo, vi farò poi un unboxing sul funzionamento di questo modem. Grazie a tutti, ciao amici di Alessandro, iscrivetevi al mio canale, ciao ciao!